Sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro ad una società d'ingrosso di abbigliamento e biancheria di Palma Campania in provincia di Napoli da parte della Guardia di Finanza. In tre anni la società aveva evaso 14 milioni di euro al fisco. In particolare le fiamme gialle della compagnia di Ottaviano hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della Procura della Repubblica di Nola diretta dal procuratore capo Paolo Mancuso al termine di un'indagine che ha permesso di individuare e denunciare oltre ad un prestanome intestetario della ditta di origini pakistane anche il proprietario della società, un 63enne di Palma Campania. L'uomo è accusato di aver omesso di presentare dichiarazione di redditi IVA per un'ovazione totale di oltre 14 milioni di euro in tre anni. Gli inquirenti hanno ricostruito la contabilità, i ricavi sottratti al fisco ed individuato quote societarie, conti correnti e beni immobili tra i quali due terreni a Palma Campania e due appartamenti a Diamante in provincia di Cosenza. per un valore complessivo di 3 milioni e 100 mila euro in disponibilità dei due responsabili poi sottoposti a sequestro.